Tesla è stato molto più di un grande ingegnere elettrico e dall'età di 81 anni ha affermato che aveva terminato la teoria dinamica della gravità. Purtroppo questa teoria non è mai stata pubblicata, ma disse, non esiste niente che venga fornito di vita dall'uomo che schiavizza gli elementi, dalla creatura più esile nell'intero mondo che non domini a sua volta. Qualsiasi azione nasce dalla forza, non importa quanto sia piccola, l'equilibrio cosmico viene turbato come il risultato dei movimenti cosmici. Questo è esattamente il processo che viene spiegato nella nuova teoria chiamata la teoria quantica dell'atomo. In questa teoria la mela di Newton non cade sul terreno a causa della forza in basso della gravità, ma a causa del momentum in su della radiazione magnetica o di luce. la gravità non è per niente una vera forza, è la forza secondaria di una forza elettromagnetica. Gli oggetti cadono liberamente verso la massa più grande o di energia perché hanno una percentuale, o di un flusso più lento di tempo o di una maggiore dilatazione di tempo. Credo che questo si possa vedere con la matematica, sia con la forza gravitazionale che con la forza elettromagnetica, avendo la legge inversa al quadrato. Abbiamo la legge inversa al quadrato perché la superficie dell'area della luce sulla sfera aumenta col quadrato dei raggi. Questa è la forza del campo gravitazionale che è inversamente proporzionale al quadrato della distanza dalla sorgente. Non c'è alcuna azione misteriosa sulla distanza. Il campo gravitazionale funziona alla velocità della luce perché è una parte integrale del processo universale della forza elettromagnetica. Abbiamo un processo universale che inizia da una funzione delle particelle d'onda quantistica o probabilmente da una funzione di quantum meccanico che si espande all'esterno come una sfera inversa e termina con la legge del quadrato inverso della gravità e la terza legge di movimento di Newton. Ad ogni azione esiste una reazione uguale ed opposta. La gravità è la reazione opposta degli atomi che irraggiano nelle onde sferiche quantizzate del fronte delle radiazioni elettromagnetiche. Abbiamo un processo universale interattivo che si dispiega continuamente a livello quantistico degli atomi. Noi vediamo e riempiamo questo processo come il tempo come un processo fisico di scambio energetico continuo formato dalla luce dell'oscillazione dei fotoni, dalla luce dell'oscillazione dei fotoni. Gli oggetti formano il loro proprio tempo rallentando fino al ritmo del fluire del tempo relativo alla loro energia o del loro momentum. La gravità non è per niente una reale forza. Gli oggetti semplicemente cadono verso l'energia più grande perché ha la maggiore dilatazione di tempo o del minore ritmo in cui scorre il tempo. In questa teoria la massa è un doppio prodotto della dilatazione di tempo. Quando il tempo rallenta richiede maggior sforzo per muovere un oggetto da A a B e questo si vede come un aumento di massa. Anche il principio dell'equivalenza di Einstein fra la gravità e l'accelerazione cade con questa teoria perché l'energia e il momentum devono aumentare in un oggetto per accelerare. La dilatazione del tempo aumenterà relativamente all'accelerazione, perciò abbiamo il principio di equivalenza fra la gravità e l'accelerazione. Questo si può percepire come un incrementatore nella direzione dell'accelerazione. Inoltre abbiamo la prima legge del movimento di Isaac Newton. Fintanto non avviene una forza esterna, un oggetto manterrà la velocità costante. Questa teoria assume la dinamica del processo interattivo della teoria generale della relatività che si estende sulla vita quotidiana, spiegando un universo che arriva continuamente dentro l'esistenza relativa dall'energia del momentum delle proprie azioni. Ogni individuo è parte di questo processo interattivo che forma le incertezze e le probabilità necessarie per il grande gioco della vita. Ma al di sopra di tutto questa teoria ci fornisce un'aggettiva comprensione del tempo come un processo di creazione, continua. Anche una rosa che fiorisce creerà il suo tempo con la propria referenza di guida. Questo si adatta con la realtà della vita di ogni giorno. Grazie al passato ed il potenziale futuro con cui potremo interagire con le nostre proprie potenziali guide per aprire il possibile in attuali. Questo può essere la forma d'arte o la poesia. Anche una danzatrice sul palco di danza è in grado di interagire con questo processo per il proprio spazio, tempo, futuro relativo alla loro energia e momentum delle loro proprie azioni. In questa teoria la creazione è vera nelle mani e negli occhi dello spettatore. Grazie per aver guardato. Per favore votate e sottoscrivete, ci aiuterà la promozione di questa teoria. Desidero finire questo video con una frase di Tesla. Il giorno che sapremo esattamente cos'è l'elettricità, la cronistoria avrà un evento probabilmente più importante di ogni altro registrato nella storia della razza umana.